Incontro nella giornata di ieri nella sala consigliare della provincia di Teramo con il commissario straordinario della ZES Mauro Miccio che ha illustrato i risultati raggiunti dalla zona economica speciale abruzzese. Dal prossimo 1 gennaio entrerà in vigore la ZES Unica e 14 comuni terramani ne potranno beneficiare attraverso vantaggi fiscali ed aiuti. Uno di questi che ha già fatto il primo passo è quello di Roseto degli Abruzzi dove un'azienda fuori regione si è già insediata nella zona dell'autoporto. Sì, ieri è stato un importante incontro in provincia, ringrazio il professor, il commissario di governo, il professor Miccio rappresenta anche la camera di commercio con dottoressa Ballone e l'ingegner Dattoli, presidente di Convindustria. Roseto ha avuto un ruolo centrale in quanto nell'ultimo consiglio abbiamo deliberato l'insediamento rinunciando al diritto di relazione di una nuova azienda nella zona ZES che a breve si insedierà e stiamo seguendo anche l'insediamento di altre nuove aziende perché ricordiamo che dall'1.1.2024 ci sarà una ZES Unica però le agevolazioni sono più vantaggiose se uno riesce a insediarsi entro la fine dell'anno. E in che modo potrebbe cambiare radicalmente la zona dell'autoporto, ricordiamo, dal 2020 inserita nella ZES? Sicuramente potrà cambiare dando una vocazione proprio industriale, artigianale di quella zona che è nata, è stata creata appunto per avere quella vocazione. La ZES ci aiuta a creare e a rafforzare lo sviluppo di quell'area su cui noi abbiamo sempre riduto. Quindi l'auspice è quello di incentivare nuovi imprenditori o nuove aziende a insediarsi in quell'area che oltre ad avere dei vantaggi a livello fiscale e anche a livello finanziario c'è un vantaggio nella ZES che riguarda le tempistiche che sono molto più brevi le pratiche a livello comunale in quanto la ZES appunto semplifica e agevola l'insediamento produttivo.